Grazie a tutti. Con il quale collaboriamo in realtà da diversi anni partendo da una implementazione in realtà on-prem della soluzione Dynamics AX 2012 che ad oggi si è spostata sul cloud ma ci ritorneremo su questo tema. Intanto volevo lasciare la parola a Roberto giusto per darci un inquadramento di chi è Pellegrini e cosa fa e anche poi quali sono i punti che hanno spinto Pellegrini a voler intraprendere questo viaggio. Grazie Marco, grazie Francesca. Mi ritrovo abbastanza nelle questioni che sono state sollevate anche con i dati dell'osservatorio. Molti dei quesiti che sono stati evidenziati sono anche quelli che ha affrontato Pellegrini. A molti di questi ha dato delle risposte, non a tutti e quindi non vorrei illudere chi ci ascolta di avere risposte per tutto. Due parole su Pellegrini. Pellegrini è un'azienda che occupa oltre 7500 dipendenti in Italia che si avvicina nel 2019 ai 600 milioni di fatturato ed è attiva su 5 divisioni di business abbastanza articolate. Quella storica della ristorazione collettiva, nella fornitura alimentare quindi la vendita di derrate a clienti terzi, nella divisione welfare solution più conosciuta forse per i buoni pasto, quindi per gli strumenti che poi supportano anche aziende nelle proprie soluzioni di welfare. Abbiamo una divisione pulizie e servizi integrati e gestiamo anche i distributori automatici dei vending machine presso diversi clienti. Abbiamo una consociata all'estero di dimensioni sicuramente più piccole su cui oggi non è ancora implementato il nostro sistema che è Dynamics 365 dal 20 di settembre appunto in cloud, dal 20 settembre di quest'anno del 2019. Pellegrini poi è attiva anche su altre iniziative da un'accademia con cui formiamo i nostri cuochi a delle iniziative invece nel mondo del sociale tramite una fondazione che attiva con il ristorante Ruben che è in Lorenteggio a Milano. È un'azienda che ha oltre 50 anni di storia, detenuta al 100% da una famiglia che è la famiglia Pellegrini che oggi si avvicina alla seconda generazione con Valentina Pellegrini che è vicepresidente e sicuramente tiene insieme al nostro presidente Ernesto Pellegrini le redini dell'azienda. Noi siamo sul sistema Dynamics o meglio su AX 2012, AX 2012 attiva in Pellegrini dal primo di gennaio del 2016. A fronte di tutta una serie di investimenti prima nell'implementazione e poi nell'evoluzione ci siamo avvicinati pian piano a quello che era il termine da parte di Microsoft della release cosiddetta R2 e quindi ci siamo dovuti porre il problema di cosa fare, se passare alla successiva release R3 oppure passare in cloud e la scelta evidentemente se sono qua è stata quella di passare alla release 365 con un percorso che adesso magari andiamo a descrivere insieme. Quindi così per ricapitolare anche il mondo di benefici che avete visto dietro all'opportunità di spostare la piattaforma transazionale di Pellegrini sul cloud uno degli elementi è stato sicuramente anche la gestione di quella che è una evergreen version perché appunto il problema di dover gestire una release R2 che era in fine vita con anche l'opportunità eventualmente di salire su una release che aveva ancora qualche anno di vita davanti a sé ma la sfida più grande è quella di salire su una piattaforma totalmente on cloud con anche un ciclo di vita illimitato perché poi alla fine il concetto del continuous update è proprio questo sicuramente è stato anche di stimolo. Stimolo che però almeno ha portato anche a porsi un certo numero di domande un certo numero di interrogativi che ho provato a ricapitolare in questa tavola e sono in realtà le domande che anche in Avanad nel suo insieme al di là del contesto specifico di Pellegrini abbiamo potuto vedere essere più ricorrenti nel parco dei nostri clienti che utilizzano piattaforme Dynamics e che ad oggi si stanno interrogando sullo spostarsi o rimanere dove si trovano sono domande che sono attinenti sia all'area delle licenze quindi cosa succede in termini di nuovo di costi predittività degli stessi costi rivitalizzazione di un investimento fatto a suo tempo in licenze c'è una sola domanda relative alla tematica delle customizzazioni perché non dimentichiamoci che alla fine uno degli elementi che qualificava Dynamics nella sua release precedente era proprio una certa libertà nell'andare a customizzare l'applicazione e andare a ritagliare dei processi che fossero particolarmente rispondenti alle esigenze specifiche dell'azienda di conseguenza la domanda, la versione nuova saprà ancora accoglierci altrettanto comodamente e più che lecita ci sono domande relative alla durata del progetto di implementazione perché comunque stiamo parlando delle applicazioni core dell'azienda, del cuore pulsante non avere una visione chiara di dove andremo ad atterrare, quanto tempo ci vorrà quanto effort ci vorrà e di nuovo ritorno alla tematica dei costi e della loro predittività è sicuramente importante e da ultimo c'è una tematica di change enablement perché la tematica delle competenze interno azienda sia da un punto di vista di fruizione della piattaforma cloud da parte degli utenti finali ma anche di gestione di una piattaforma cloud da parte dell'IT dell'azienda è sicuramente di assoluto rilievo quindi tante domande ho provato anche a ricapitolare un po' quelle che sono i punti di attenzione un po' in ordine sparso e non necessariamente di importanza punti di attenzione che abbiamo visto emergere dai diversi cantieri di migrazione che stiamo seguendo e che ci hanno anche portato a voler fortemente implementare una metodologia che ci permettesse di affrontarla e anche mettere in campo alcuni tool che permettessero di indirizzare queste tematiche in maniera più semplice e più efficace c'è una tematica di integrazione ne aveva parlato anche Francesca in precedenza citando la tematica del library cloud quindi il legame on-prem on cloud che diventa particolarmente rilevante quando si parte da interfacce perché l'IRP sta al centro, intorno si muovono tutti i dati, i punti di contatto sono moltissimi non possiamo immaginare che tutto salga in un unico istante sul cloud e liberarci di un ascensore che ci consente di spostare i dati da una parte all'altra c'è una tematica relativa all'accesso ai dati quindi l'irreportistica alla BI ne parlavo prima in termini di change enablement dei fruitori delle piattaforme però cambia il modo di utilizzare le piattaforme cambia il modo di accedere ai dati cambia il modo di consumarli non si possono più fare delle belle query e sequelle come magari tanti di noi erano abituati a fare sui dati dell'azienda bisogna trovare soluzioni differenti, bisogna anche rendere l'applicazione genericamente più push nei confronti degli utenti e liberarsi un pochino da quelle richieste in pool che poco sono compatibili con un'applicazione on cloud poi c'è una tematica di business qui la vedete citata come business processes però la tematica è ancorché il lift sul cloud dell'IRP, di Dynamics possa sembrare un progetto squisitamente tecnico o tecnologico non possiamo non tenere a bordo il business e ritorno su quanto diceva Francesca in merito al business case ovviamente un'azienda sceglie di fare un percorso se ne intravede un beneficio e se pensa di potersi tenere a bordo il proprio management e tenerlo ingaggiato quindi andare a documentare bene i business processes capire che cosa stiamo spostando in termini di business non solo di applicazioni sul cloud è molto importante e poi sicuramente c'è tutto il mondo diciamo techies di technicality legata all'implementazione con punti di attenzione per quanto riguarda le verticalizzazioni questa è un'altra caratteristica che oltretutto era proprio anche del tuo ambiente Roberto dove c'erano dei verticali di settore industriale sviluppati specificatamente per il vostro settore da una terza parte, non da Microsoft ed è stata questo progetto anche l'occasione per interrogarsi sulla valenza o meno di tenerli e su che soluzioni trovare soluzioni da trovare anche per quanto riguarda le deprecated feature cioè Dynamics è cambiato sono cambiate tante cose come aggiustarle e poi tutta una tematica di data migration quindi lift dei dati sul cloud come farlo ecco un po' sinteticamente questo è un po' il processo che noi ci immaginiamo per la migrazione di un'istanza Dynamics AX verso 365 in diverse fasi ma sottolineo alcuni punti punto numero uno reason for migration interrogarsi insieme al business capire quali sono i vantaggi capire cosa porterà e quale sarà l'enablement da un punto di vista di business di una adozione di una piattaforma da Dynamics 365 a un cloud quindi darsi delle priorità in termini di area di processo e di opportunità da sfruttare punto numero due technical assessment abbiamo detto predittibilità dei costi predittibilità dei tempi e predittibilità del risultato qualità del risultato da ottenere questo fa il paio anche con la possibilità di Dynamics di essere fortemente customizzato nelle release precedenti quindi fare un technical assessment che permetta al system integrator ad Avanad spero di acquisire una visione chiara di quello che è il contenuto della piattaforma applicativa di quali sono le chiavi di volta per portarla sul cloud è fondamentale e su questo Avanad ha lavorato molto anche in termini di tool sappiamo che Microsoft ha metto a disposizione tutta una serie di tool per facilitare la migrazione dal punto di vista di Avanad questo non era sufficiente abbiamo lavorato a contorno per sviluppare delle soluzioni che anche in maniera automatizzata consentissero in tempi relativamente compressi di andare a acquisire una visione chiara di cosa è in scopo cosa c'è nel pacchetto applicativo nel caso di Pellegrini ovviamente lo conoscevamo anche ma ciò nonostante ci è servito per mettere insieme questi tool e ottimizzarli punto numero tre migrazione tecnica o comunque fare un primo POC della soluzione vediamo poi dopo con Roby come anche questo è un tema importante cioè provare a fare un piccolo prototipo sulle aree critiche quindi iniziare a migrare alcuni oggetti e andare avanti per step piccolo POC che serve anche poi a creare una roadmap chiara quindi ad avere un respiro di progetto chiaro e definito in termini di azioni da fare ingaggi effort necessario lato cliente e attività da fare da un punto di vista anche di testing della soluzione e quindi di nuovo priorità e poi c'è la execution della migrazione dove di nuovo possono ritornare delle tematiche di automazione sia del testing sia del processo di migrazione stesso di nuovo con dei tool su cui abbiamo lavorato in Avanad ma il discorso è avere innanzitutto definita una roadmap chiara in termini di tempi metodi e soluzioni qui vedete una presentazione più dettagliata non la commento ora vi rimarrà spero a disposizione con le slide che verranno distribuite faccio solo un highlight sulla barra in basso che riguarda i tempi perché adesso raccontare un approccio per step può sembrare e poi voler introdurre tempi molto lunghi che invece non sarebbero compatibili con quella che è la mission di una soluzione in cloud in realtà i tempi non sono così lunghi si parla sempre di sono tempi da misurare in settimane una settimana per farsi un ingaggio del business un piccolo business assessment quindi portare a bordo il business con dei workshop mirati da 3 a 5 settimane per quanto riguarda l'assessment tecnico ovviamente se si decide di fare un POC anche quello nel caso di Pellegrini ha portato un pochino di tempo però è assolutamente utile e poi definizione della soluzione oggetto di migrazione e roadmap di nuovo da 1 a 3 settimane da lì in avanti parte il progetto quanto dura il progetto e funziona la complessità di estensione della soluzione quindi varia caso per caso il nostro punto è investire un mese un mese e mezzo iniziale nel capire cosa vogliamo fare come lo vogliamo fare sulla base di strumenti e tool organizzati infatti in verde vedete le componenti diciamo automatizzate del processo dove c'è dell'IP ci sono delle soluzioni che abilitano questi momenti ma cosa è successo in Pellegrini per farlo come abbiamo fatto allora in Pellegrini sostanzialmente abbiamo seguito quella mappa o meglio quella mappa penso che sia anche venuta fuori un po' dall'esperienza che abbiamo fatto insieme in Pellegrini sicuramente c'è stata una fase iniziale di assessment importante una fase di assessment necessaria anche per acquisire la confidenza sul fatto che la soluzione cloud potesse dare tutte quelle garanzie di continuità di funzionalità di integrazione con il resto dei sistemi verticali che avevamo e che ancora abbiamo all'interno dell'azienda eravamo relativamente freschi di implementazione ancora di AX 2012 per non pensare a una fase di re-engineering dei processi troppo importante quindi in Pellegrini la migrazione è avvenuta sostanzialmente a processi costanti è stata l'opportunità di rivedere alcune cose su alcuni processi anche organizzativi ma tutto sommato ci si è mossi su una base di analisi dei processi di implementazione che potevamo considerare assodata questo sicuramente è un elemento importante per diminuire i rischi di progetto perché diventano un pochettino più tecnologici e un po' meno organizzativi altro passaggio fondamentale è stata proprio la validazione delle integrazioni noi abbiamo circa 200 interfacce mal contate con i sistemi verticali non abbiamo 200 sistemi verticali ma abbiamo 200 flussi informativi che vanno avanti e indietro tra i nostri sistemi e l'IRP e quindi la validazione dei metodi di integrazione è stato uno dei passaggi fondamentali che ha portato via delle settimane forse mesi ma che secondo me ha dato valore al progetto ha dato confidenza nel poterlo percorrere con un buon ritmo poi il disegno della soluzione 2B appunto dicevo non ha portato grossissimi stravolgimenti ma ha consentito di togliere una verticalizzazione che avevamo in particolare era relativa al meccanismo di definizione del pricing per quanto riguarda la vendita di derrate alimentari e di integrarla all'interno delle caratteristiche del sistema che nel frattempo si sono sviluppate perché siamo passati da una release appunto che era la 2012 R2 alla release 365 al Dynamics 365 in particolare alla 10.06 che quindi aveva dentro delle funzionalità anche innovative rispetto al punto di partenza da cui eravamo la pianificazione fondamentale abbiamo cercato insieme di fare una pianificazione un po' ispirata alle Gile per quanto qui i tempi invece i tempi dei vari run non si misuravano proprio in settimane ma magari in alcuni mesi quindi è un simile Gile però il concetto del cercare di andare il prima possibile in test delle soluzioni oppure di parte della soluzione è credo sia stato uno degli elementi fondamentali di successo del progetto quindi la parte di assessment è stata sicuramente importante e abbastanza lunga così come importante è stato provare il prima possibile a migrare quindi abbiamo fatto credo 5 o 6 tentativi non tentativi prove di migrazione dei dati esattamente quindi mettendo sotto stress anche tutti i tool che la stessa Microsoft mette a disposizione verificandone i limiti attendendo ogni tanto anche che Microsoft risolvesse qualche qualche bug in questi in questi tool però prendendo anche confidenza sul fatto che non ci fosse perdita di dati rispetto a una implementazione di sistema IRP come era quella che era stata per noi nel 2016 con AX 2012 non si sono migrati solamente i saldi ma si sono migrate tutte le transazioni quindi io non ho avuto perdita di dati sostanzialmente nel passare dalla versione on-prem alla versione in cloud quindi ho recuperato tutto quello che avevo precedentemente gli sviluppi custom sono stati rivisti per passare dalla modalità di sviluppo prima di 2012 a quella di Dynamics 365 quindi in extension ed è stata un po' l'opportunità anche di rivedere alcuni custom perché nonostante il tempo dalla prima implementazione di AX non fosse grande stiamo parlando di due anni se parliamo del tempi del progetto per fortuna qualche custom si era già rivelato inutile o poco sfruttato quindi abbiamo sfruttato l'occasione per fare un po' di pulizia l'implementazione del layer di integrazione è stato importante ci appoggiavamo già su un layer Microsoft che è Bitstalk e abbiamo continuato a utilizzare lo stesso sistema andandone a implementare una versione anche cioè a collegarlo a tutta la versione in cloud e aggiornandone la release l'ampliamento del perimetro applicativo adesso quello che vediamo sulla destra sono un po' le opportunità cioè il motivo per cui abbiamo anche fatto i due passaggi precedenti fare un passaggio di questo tipo vuol dire innanzitutto creare uno strumento abilitatore di futuri sviluppi oggi siamo a bordo di una piattaforma che evolve e che dobbiamo far evolvere quindi è un po' un processo virtuoso in cui ci si immette volontariamente anche relativamente anche relativamente al confronto sui costi che si diceva in fase iniziale confrontare un sistema in cloud rispetto a un sistema on-prem non è fattibile o perlomeno è perdente se lo si confronta con una situazione statica ma se lo si vede su una dinamica di alcuni anni magari 5-6 o ci si avvicina nei 10 credo che inizia a diventare confrontabile perché a quel punto lì anche tutta la parte infrastrutturale non può che evolvere non può che necessitare di quindi investimenti e tutto sommato a questo punto i costi variabili dei sistemi cloud iniziano a diventare paragonabili anzi ti obbligano a seguire questo percorso in maniera progressiva e quindi meno traumatica nei passaggi da un gradino all'altro grazie a tutti